ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi parleremo di incisione laser voglio presentarvi un purificatore d'aria che permette a chiunque non abbia possibilità di incidere in zone abbastanza ventilate o comunque non ha la possibilità di esplendere facilmente i fumi di poterli filtrare in modo da ridurre il pericolo di respirare appunto fumi potenzialmente tossici scusate questo segno sulla mia tempia ma a proposito di incisori laser che fanno male mi è caduto un incisore laser da uno scaffale proprio in questo punto fino a ieri un libido nero va bene quindi l'incisione laser può fare male comunque tornando a noi è la verità mi è caduto vero sulla tempia tornando a noi parliamo di questo purificatore d'aria della atom stack che è particolare perché diversamente dagli purificatori d'aria qui siamo abituati quelli che si tengono per uso domestico questo a questo bocchettone sulla parte frontale e funzionamento tramite un sistema touch quindi anche tecnologico moderno ma non interessa sapere se funziona come funziona insomma se riesce a garantire l'aria pura infatti ho posizionato in questo punto sopra ad un box di un altro incisore laser perché compatibile ovviamente con tutti gli incisori il purificatore sotto questo punto illuminato in modo da vedere eventualmente il fumo che fu riesce se riesce a funzionare o meno prima me lo faccio vedere per bene da vicino vediamo come è fatto allora a nella parte frontale questo coperchio questo bocchettone e si rimuove semplicemente premendo push si apre e all'interno troviamo dei filtri sono un filtro particolare perché è formato da tre strati c'è un prefiltro che trattiene le particelle più grossolane poi c'è un filtro epa all'interno e da questa parte con questo sistema ad alveare c'è del carbone attivo quindi dovrebbe riuscire effettivamente a purificare si riuscirà lo vedremo fra poco questa è una grande ventola che aspira l'aria che fu riesce da questa parte metterò pure col cosina per far vedere la potenza dell'aria che fu riesce scusate ma come sempre mi arrivano telefonate mentre registro quindi una piccola pausa chiusa la telefonata quindi continuiamo allora guardiamolo per bene da vicino così mentre è aperto vi faccio vedere il cavo di alimentazione da questa parte che è possibile anche separare in modo da non dovere per forza avvolgere tutto il cavo ogni volta che lo utilizziamo poi lo togliamo dai piedi abbiamo semplicemente questo piccolo cavettino ci rende la vita un pochettino più semplice a destra e a sinistra abbiamo queste impugnature a poterlo sollevare sulla parte alta abbiamo questo pannellino touchscreen poi ve lo farò vedere anche in funzione da questa parte abbiamo dei led colorati che stanno anche di indicare la qualità dell'aria questo è il sistema per attivare lo ionizzatore questo invece è la velocità e questo è il tastino di accensione diciamo nel complesso è semplice però se svolge bene la sua funzione perché tra l'altro è anche molto leggero e allora siamo a posto nella parte posteriore abbiamo pure l'etichetta con un marchio c'è che devo verificare se sia il vero marchio c'è oppure no guardate scrivete anche voi nei commenti quindi lo accendiamo e vediamo come si comporta ovviamente per vedere come si comporta però un incisione creerò un quadratino nero un rettangolo che provochi tanto fumo sulle mdf che pieno di colla quindi in questo modo abbiamo la possibilità di capire effettivamente quanto fumo riesce ad aspirare se mantiene l'aria pulita però c'è un però questo bocchettone in realtà è falso per i tubi da 100 e infatti viene dato in dotazione questa è una cosa che ho credito tantissimo un piccolo cacciavite e poi questa faccetta per poter estringere i tubi in questo caso in un tubo da 80 e posso usarlo lo stesso perché all'interno è da 80 quindi lo blocchiamo così si preme rimane al suo posto prendiamo il tubo e inserendo il tubo al suo interno risolviamo il problema perché funziona anche in questo modo e non utilizzerò nemmeno la ventola del box perché voglio vedere se la ventola integrata riesce ad aspirare per bene quindi datemi due minuti che preparo un file ripeto un quadratino tutto nero e iniziamo questa prova senza air assist proprio il massimo del fumo che possiamo produrre produciamo per voi sono passati solo 23 secondi per me invece sono passati circa dieci minuti ho preparato il file ho sistemato un pochettino tutto ho messo un pezzo di mdf all'interno e questo pezzettino di plastica che con il vento emanato quindi con l'aria che entra fuori c'è la parte alta dovrebbe solo levarsi per farci vedere insomma l'aria che fuoriesce quindi l'accendo ok si solleva abbiamo la possibilità di aumentare e diminuire la velocità in questo modo è più potente guardate si muove un pochettino anche la lampada questa è la potenza minima mentre media e massima allora a questo punto avviamo l'incisione ho intenzione di fare però una prova voglio vedere come si comporta innanzitutto con l'incisione con l'aspiratore mentre in funzione dopodiché staccherò il filtro lascerò comunque in funzione il tutto per vedere la differenza e fuoriuscita di fumo tra il filtro inserito il filtro disinserito in modo da rendersi conto della differenza perché qualcuno può dire ma potremmo utilizzare però un purificatore d'aria che abbiamo in casa si ma purifica solamente l'aria che riesce a captare fumo che va verso l'altro non riuscirebbe a prenderlo questo invece lo prende direttamente perché gli arriva dall'interno di un box e allora ragazzi l'unico pezzo di mdf al mondo che sotto l'incisore laser non produce fumo l'ho beccato io perché avevo già fatto tutto il video tutta la spiegazione per far vedere quanto fumo esce insomma con questo filtro come riesce a funzionare eccetera ma ho beccato l'unico pezzo di mdf che non produce fumo quindi rifacciamo la stessa prova con un pezzo di compensato di betulla che fa fumo proviamo con la potenza massima visto che non c'è l'aspirazione direttamente dal box ma solo quella e vediamo ok avvia allora adesso abbiamo la nostra incisione in corso all'interno io vedo il pezzo che produce del fumo viene tutto aspirato dal tubo e tutta l'aria sta fu riscendo da questa parte però non vediamo fuoriuscita di fumo quindi filtro sta funzionando bene aspiratore che tra l'altro anche un sistema che fa una sorta di diagnosi della qualità dell'aria tramite questo sensore quindi si adegua insomma fa tutto tutti i suoi calcoli e si adegua per lavorare meglio comunque io sto lasciando lavorare a questo punto il nostro incisore sto lasciando che fuoriesca ancora dell'aria fumo non è sta uscendo ora senza fare tagli senza alcun bagheggio né altro lo apro spengo lo apro tolgo il filtro senza toccare nient'altro lo riaccendo e dovreste vedere guardate quello del fumo quindi funziona ragazzi funziona effettivamente c'è tantissimo fumo che adesso io sto respirando per voi per la scienza questo ed altro rimettiamo questo per adesso fumo non ne vedete ovviamente perché il tubo si è allontanato dalla ventola richiudendo fumo non esce più quindi è un sistema che riesce effettivamente ad abbattere a ridurre di tantissimo praticamente quasi tutto il fumo che si forma durante le incisioni laser ovviamente io non voglio dirvi di utilizzarlo in interno non voglio dirvi di non areare i locali perché i box non sono completamente ermetici quando si apre un pochettino comunque potrebbe fuoriuscire quindi comunque cercate di areare bene le zone aprite una finestra ma nel caso in cui ci sia freddo sia comunque un ambiente nel quale non potete farlo per una ragione qualunque o volete immettere anche in esterno l'aria che sia stata purificata da un prodotto come questo perché possibilmente aprite la finestra ma tutta l'aria che viene comunque erogata potrebbe andare a finire in casa di un vicino esce dalla vostra finestra entra nella finestra del vicino a quello sicuramente non va bene è comunque un prodotto utilizzare in ambito domestico non è nulla di professionale ma posso garantirvi che in questo momento stiamo continuando ad incidere ragazzi apro il coperchio vi faccio vedere il fumo che fuoriesce se io lo spengo guardate come sale il fumo fra un pochettino guardate abbiamo tutto il fumo che fuoriesce comunque il fumo c'è adesso si dovrebbe vedere da questa parte che sta salendo e invece con il nostro respiratore riusciamo a ridurlo guardate è salito verso la lampada e allora ragazzi guardate così dovrei riuscire a farvi vedere quanto fumo si sta formando si vede benissimo adesso apriamo il coperchio guardate il fumo si vede davvero molto bene tutto il fumo che si forma ma se andiamo da questa parte fumo non ne vediamo quello che vedete in alto e tutto quello che ho fatto uscire poco fa durante le varie prove adesso voglio farvi rivedere rimuovendo il filtro se riesco non far cadere nulla rimuoviamo il filtro mentre tutto è in funzione lo mettiamo da questa parte ok e guardate la differenza così si riesce a vedere molto molto meglio perché poco fa si vedeva però poteva essere una cosa diciamo vista da lontano che non si percepiva molto e invece ragazzi tutto questo fumo non si forma quando è in funzione e vi consiglio dopo aver completato l'incisione di non interrompere il filtraggio anche se in questo caso ovviamente non sta filtrando nulla perché il filtro è là dietro però come vedete man mano la fuoriuscita del fumo si riduce e nel caso in cui ci fosse stato il filtro all'interno avrebbe continuato a purificare tutta l'aria all'interno del box quindi interrompiamo l'incisione e continuiamo a guardarlo abbiamo detto che abbiamo questo sensore che permette al dispositivo di capire la qualità dell'aria abbiamo questo coperchietto che si apre premendo da questa parte destra a sinistra abbiamo una scritta push quindi premendo in questo modo lo apriremo potremo accedere al vano nel quale c'è il filtro dopodiché nella parte alta abbiamo anche questo pannello come vedete abbiamo la scritta power la scritta speed e la scritta ioni negativi in inglese con questo cerchio accendiamolo vediamo la sua prima funzione quindi accendendolo in questo modo avremo una fuoriuscita di aria che possibile regolare su tre livelli una potenza elevata una potenza bassa oppure come poco fa una potenza intermedia da questa parte abbiamo anche la scritta ioni negativi come vi dicevo che permettono di appesantire le particelle più piccole serve per i fumi insomma tutte quelle particelle molto piccole che potrebbero essere inalate in questo modo invece si depositano sulle superfici ed evitano appunto che essendo sospese in aria possano essere respirate come vedete abbiamo qua dei led ok questi led indicano anche la qualità dell'aria come vedete anche la scritta ioni negativi per adesso è spenta se io premo si accende e sta ad indicare appunto che abbiamo attivato questa funzione come dispositivo sembra molto completo sinceramente avrei gradito se ci fosse stato un telecomando per arricchirlo però sarebbe semplicemente un capriccio anche così effettivamente funziona molto bene e il suo posto è 129 dollari sul sito ufficiale spero di riuscire a ottenere anche un codice di sconto perché 129 euro insomma non sono tantissimi per un depuratore d'aria ma se un depuratore d'aria che funziona in questo modo con il nostro incisore laser e che ha questo sistema che ci rende la vita più facile perché no secondo me è molto adatto e si può utilizzare anche come depuratore d'aria normale per la casa perché depura effettivamente il filtro epa al prefiltro a carbone attivi quindi si utilizza con un normalissimo depuratore che costa super giù la stessa cifra ma che non ha questa particolarità di poter essere utilizzato con questo sistema per il bocchettone con il tubo io sono contento lo promuovo per me funziona bene come avete visto la differenza di fuoriuscita di fumo è abissale tra il filtro inserito e filtro non inserito non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccare qua giù sul pollice all'inizio cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto